Ristretto italiano, le news dal mondo sull'Italia. Le delusioni del doppiaggio italiano. Oggi lo facciamo strano il nostro ristretto italiano e apriamo con l'articolo che un giornalista inglese che da molti anni vive a Parma ha scritto per il sito britannico-culturale Engelsberg Ideas, che poi forse i più affezionati lo ricordano, lui il giornalista, e quel Tobias Jones che intervistai a maggio proprio per questo podcast. Dunque dicevamo le delusioni del doppiaggio italiano. L'amato settore del doppiaggio italiano, scrive Jones, strana fonte di orgoglio nazionale, rende più difficile per molti italiani padroneggiare la lingua inglese. E a un forestiero appare un po' bizzarro che, dopo il cibo e dopo il calcio, la cosa di cui gli italiani vanno più fieri sia la loro capacità di doppiare film e serie televisive. Con quel buffo ritornello del noi abbiamo i doppiatori migliori del mondo, cosa molto buffa in quanto sono cinque in tutto il mondo i paesi che appiccicano un audio nazionale ai film esteri. Il doppiaggio continua lo scrittore inglese e produce una televisione orribile. Sui canali terrestri tutti i film e le serie sono doppiati con la conseguenza di dialoghi che sono piatti e metallici. La differenza da un prodotto in cui la voce è quella reale degli attori è abissale. Questo bizzarro mito del doppiaggio, rifletta ancora il giornalista, ci dice anche quanto gli italiani amino il suono della propria voce. Adulino il timbro del doppiatore, la sua interpretazione stilizzata e il suo ritmo impeccabile. L'oralità in Italia influisce sui risultati scolastici, arrivando a valere tanto quanto una risposta scritta alle domande d'esame. E poi, a proposito della scuola, continua Tobias Jones, che oltre che il giornalista freelance per le maggiori testate britanniche, fa anche l'insegnante d'inglese. A proposito della scuola, appunto, il doppiaggio a tappeto significa che l'apprendimento delle lingue straniere è sorprendentemente basso. Gli studenti che lasciano la scuola non riescono a sostenere una conversazione elementare in inglese, nonostante 12 anni trascorsi sui banchi. Lavoro con molti adolescenti esclusi dalle scuole tradizionali di Parma, conclude Tobias Jones, e ciò che mi incuriosisce è che questi ragazzi, ripetutamente bocciati a scuola, hanno un inglese parlato di molto superiore a quello dei loro coetanei nei licei prestigiosi. E quando chiedo a loro come fanno a parlare un inglese così buono, sono quasi imbarazzati. Oltre a passare il tempo con ragazzi immigrati dall'Africa che parlano un inglese di strada, il loro principale percorso di apprendimento è stato molto semplice, trangugiare centinaia di ore di Netflix in lingua originale. In conclusione, il doppiaggio che deifica le voci italiane resta una cultura ottusa e provinciale. Inutile che io vi dica quanto sono d'accordo col collega inglese. Rimanendo con un altro servizio sui temi della scuola, cito un servizio video del canale in lingua spagnola di Euronews sul progetto di inserimento dell'intelligenza artificiale nelle scuole superiori. Lo aveva annunciato già il ministro Valditara all'inizio dell'anno scolastico, ne abbiamo parlato anche qui a ristretto italiano. Quindici istituti suddivisi in cinque regioni si sono prestati alla sperimentazione inserendo nelle classi del quarto anno una specie di doppio canale. Nelle verifiche dell'apprendimento le classi coinvolte avranno un doppio canale, quello tradizionale con gli scritti e gli orali condotti dagli insegnanti, come sempre, e quelle sperimentali dove sarà l'intelligenza artificiale a individuare le lacune nell'apprendimento, a correggerle anche fornendo, sempre intelligenza artificiale, consigli personalizzati ai singoli studenti. E poi, periodicamente, si fanno delle verifiche tra la classe tradizionale e quella artificiale. Il progetto durerà due anni e gli insegnanti intervistati si sono detti contenti e sicuri che quello sarà il futuro. E tra gli intervistati interessanti c'è anche una studentessa che testimonia come gli studenti siano già abituati a servirsi dell'intelligenza artificiale nei loro elaborati, i famosi compiti con già GPT nel telefonino sotto il banco, e che proprio per questo la ragazza si augura che tutto possa passare alla luce del sole in un rapporto di interazione con gli insegnanti a vantaggio di tutto. Sempre a Euronews, questa volta il canale in lingua inglese, che si chiede che cosa potrebbe significare l'alleanza Meloni-Elon Musk per l'Unione Europea. L'Italia, premette l'articolo nel sottotitolo, ha aperto la strada alle aziende di Musk per investire in internet satellitare e spazio dentro l'Unione Europea. Che cosa avrà in cambio Musk da Bruxelles oltre che da Roma? Domanda che però sembra destinata, visto l'articolo, a rimanere solo un grosso punto interrogativo. E continua l'articolo, il prestigioso riconoscimento che la Premier italiana ha ricevuto a New York, che solleva altre domande ancora. Un premio assegnato dall'Atlantic Council, organizzazione statunitense che dal 1961 promuove la cooperazione tra Stati Uniti ed Europa e che quest'anno sembra essere andato, in un modo poco protocollare, a una figura di giovane esperienza e che certo, dopo solo due anni di governo, non può vantare grandi risultati. Sempre su Meloni-Musk, ricordate che ieri mi stupì di come dalla lontana India un giornale autorevole come l'Industan Times si chiedesse se tra loro due ci fosse del tenero? Subito pensai a una boutade legata anche ai gossip dello scorso anno sulla simpatia tra Meloni e il premier indiano Modi e invece oggi è tutto un fiorire di articoletti anche da parte delle testate che di solito i gossip lo evitano. Come l'austera, l'austerissima Reuters che titola, Elon Musk afferma di non avere una relazione con l'italiana Meloni dopo gli elogi reciproci al galà che con tutto sto parlarne sembra quasi che sia lui, in una maniera peraltro molto vicina al gallismo italico, che sia lui a fare girare la voce di un aliasono inesistente per vantarsene un poco. E sempre da Londra c'è anche Sky News a titolare, Elon Musk nega la relazione sentimentale con la premier italiana. Insomma, quella è ancora più bella dentro che fuori, sembra avere diffuso troppi coricini nell'aria. La pacchia è finita. C'è agitazione in Germania la notizia che le migliaia e migliaia di volte destinate agli automobilisti tedeschi stanno per uscire dai cassetti dei comandi di polizia locale, al punto che BR24, rete all news, titola multestradali dall'Italia, pagarle oppure no. Stando alla mole di contravvenzioni parcheggiate nei comuni delle varie città d'arte e nelle località turistiche, sembra davvero che nessun tedesco mai si sia peritato di pagare le soste nelle strisce blu. Forse, che ne so, con la scusa che non capiscono le soluzioni in italiano. Il solo comune di Merano, ve lo dicevo anche ieri, ne ha 4.000 da notificare, senza parlare poi del lago di Garda, del litorale Veneto, di quello romagnolo. Non starò qui a leggervi tutte le eccezioni che l'articolo consiglia di sollevare, se vi interessa lo trovate linkato nella newsletter di questa mattina. Vi dico solo che alla fine il consiglio è quello di pagare subito, in quanto in un secondo momento la documentazione verrà trasferita agli esattori tedeschi e alle società di recupero crediti e non sarà poi così facile continuare ad evaderle. Oltre al fatto che tornare in Italia per un'altra vacanza, se non si sono pagate le multe pregresse, potrà rivelarsi problematico. Le targhe degli inadempienti pare che siano tutte registrate e consegnate alla vigilanza elettronica. Altre telecamere, con queste chiudo, leggo che saranno messe sulle vette alpine per contrastare le diverse forme di vandalismo. Sì, perché anche lì, come scrive da Monaco Neue Nord Bayern, i turisti, tra i quali molti tedeschi, si rendono protagonisti di episodi squallidi. E cita l'articolo in massiccio del Pasubio, delle Arpi Vicentine, dove non passa giorno che non venga rinvenuta una lapide distrutta, una madonnina sradicata, una targa scarabocchiata. Con le telecamere si spera di mettere un freno. Signore, vi auguro e signore, vi auguro un buon weekend e vi aspetto lunedì. Ristretto Italiano di Ruggero Po